Salve a tutti gentili spettatori, benvenuti, ben ritrovati, soprattutto buon anno a tutti quanti. Questa è la sedicesima puntata di Polis, la prima del 2024 dopo la piccola pausa che ci siamo presi nella settimana natalizia. Giusto il tempo di digerire invece il cenone di Capodanno che siamo subito voluti rientrare per commentare insieme a voi quelli che sono i fatti più importanti che hanno chiuso il 2023 e soprattutto che hanno aperto il 2024. In questa prima puntata del nuovo anno abbiamo deciso di concentrarci su due discorsi, uno che ha chiuso il 2023, mi riferisco ovviamente al discorso del Presidente della Repubblica Mattarella, e uno invece che ha inaugurato il 2024 dal punto di vista politico, e cioè la conferenza stampa tenuta il 4 gennaio dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Cosa si è detto, cosa non si è detto e soprattutto cosa si è sottinteso in questi discorsi, ne parleremo insieme ai nostri ospiti. Prima però andiamo con la carrellata di notizie. Io sono Massimo Antonino Cascone e questa è la nostra sigla. Allora come dicevo, come ogni puntata partiamo dalle notizie della settimana. Sabato 30 dicembre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. Due punti principali che qui ci interessa sottolineare. Il primo è che con questa legge il Governo ha dato il definitivo ok all'inalzamento dei limiti di soie di inquinamento elettromagnetico che passerà da 6 a 15 volt metro in tutta Italia. Dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale sono poi partiti 120 giorni ufficiali in cui si potranno esprimere sulla questione anche i sindaci e le regioni. Il secondo punto riguarda invece la questione delle concessioni per il commercio sul suolo pubblico, i cosiddetti ambulanti, con il Governo che ha confermato di non aver preso alcun provvedimento per adeguarsi alla Corte di Giustizia Europea in tema di liberalizzazione delle concessioni, come prevede invece la direttiva Volkestein. La questione viaggia in parallelo con quella delle concessioni balneari. Noi da tempo, come vi abbiamo raccontato anche nelle precedenti puntate, stiamo raccontando di un'Unione Europea che cerca di piegare sul tema il Governo italiano, è stata avviata, ne abbiamo parlato, una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia e l'Unione Europea ha trovato in Sergio Mattarella un alleato. Infatti il Presidente della Repubblica, dopo la promulgazione, ha inviato ai Presidenti di Camera e Senato e anche a Giorgia Meloni una lettera di osservazioni nella quale ha sottolineato che rispetto a questo tema esistono dei profili di contrasto con il diritto europeo. Successivamente poi il 4 gennaio la Commissione Europea ha fatto sapere che analizzerà attentamente il disegno di legge sulla concorrenza adottata dall'Italia mantenendo quindi puntata la lente di ingrandimento. Ritorneremo sul tema approfonditamente nelle prossime puntate. Passando ad altro, sul fronte immigrazione, purtroppo il nuovo anno si è aperto così come si era concluso il 2023. Negli ultimi 12 mesi, infatti, secondo i dati forniti dal Viminale, l'aumento degli arrivi si è attestato su un più 50%. Un trend confermato anche nel primo giorno del 2024 con due arrivi a Lampedusa per un totale di 91 persone. Nel frattempo la nave Ocean Vikings della ONG SOS Mediterranei approdata a Bari il 30 dicembre con 244 persone è stata posta e stato di fermo nel porto a causa di un mancato rispetto di alcuni ordini impartiti dalla Guardia Costiera nel corso dell'avvicinamento alle nostre coste. Sostituito ufficialmente il reddito di cittadinanza con l'assegno di inclusione a partire dal 1 gennaio 2024, le domande per ottenerlo sono state, diciamo, e sarò date il via a queste domande già a partire dal 18 dicembre sul sito dell'Inps e potranno essere presentate anche attraverso i CAF a partire dal prossimo lunedì 8 gennaio. Secondo l'Inps i primi accrediti arriveranno intorno al 26 gennaio. Infine, tre notizie, possiamo definirle colorite, che rendono l'idea dei miseri tempi che stiamo vivendo. Il caso Denni, la sparatoria di Capodanno alla festa del Mastro e l'inchiesta sugli appalti ANAS. Riguardo la prima questione, Marcello Denni, consigliere della Corte dei Conti, il 30 dicembre ha pubblicato su X, ex Twitter, un post in cui definiva l'approvazione della legge di bilancio un'occasione persa, rimproverando all'opposizione di non aver fatto adeguato istruzionismo per mandare l'Italia in esercizio provvisorio. Dopo le accuse mosse dai parlamentari di centrodestra, il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti ha disposto l'invio immediato degli atti al Procuratore Generale per eventuali azioni disciplinari. Ricapitolando invece quante accadute la notte di Capodanno, durante i festeggiamenti organizzati dalla famiglia del sottosegretario di Stato del Mastro nel Biellese, è partito un colpo di pistola che ha ferito alla gamba un ragazzo di 31 anni, genero di un uomo della scorta proprio del sottosegretario del Mastro. A sparare involontariamente il colpo, in base alle ricostruzioni, il deputato di Fratelli d'Italia, Emanuele Pozzolo, proprietario dell'arma. Al momento il deputato è l'unico indagato dalla Procura di Biella per lesioni colpose, accensioni pericolose e omessa custodia delle armi. Nel frattempo è stato sospeso anche dal partito di Fratelli d'Italia. Infine, l'ex senatore Denis Verdini è finito nel registro degli indagati nell'ambito di un'indagine della Procura di Roma. Il figlio Tommaso, invece, è stato posto agli arresti domiciliari. Il GIP ha affermato che dalle indagini è emersa la sussistenza di un sistema corruttivo forte e stabile che ha portato a una turbativa delle gare d'appalto per importanti milioni. Sulla questione PD, Cinque Stelle e Verdi e Sinistra hanno chiesto che il Vice Premier e Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, si presentasse alle Camere per un'informativa, incontrando però il secco no del leader della Lega, sostenuto anche da Giorgio Meloni. Queste erano le principali notizie della settimana. Adesso il nostro servizio di puntata. Conclusosi pochi giorni fa il 2023. Anche per noi è tempo di tirare le somme di quest'anno passato insieme ad analizzare e commentare le scelte politiche del governo di Giorgia Meloni. Tutte guidate da concetti chiave come sicurezza, riforme e responsabilità. Giorgia Meloni non ha battuto ciglio nei consessi internazionali quando c'è stato bisogno di confermare il supporto all'Ucraina o di affermare quello a Israele. Molto attiva in campo europeo, ma schiacciata dalla forte intesa fra Francia e Germania, ha cercato di migliorare i rapporti con vari capi di Stato, nonché con la stessa von der Leyen, per garantirsi margine di manovra rispetto alle varie questioni europee. Dal memorandum con la Tunisia all'accordo con l'Albania, senza dimenticare il disastro di Cutro, sicuramente la questione immigrazione è stata una delle principali preoccupazioni di questo governo. Come forse mai prima d'ora ha fatto l'Italia, Giorgia ha inoltre tenuto sulle spine l'Unione Europea sulle questioni patto di stabilità e MES, cedendo al photo finish sulla prima e confermando inaspettatamente la sua posizione sulla seconda. Grande lavoro anche sul PNRR, con la cabina di regia del governo che ha smontato e rimontato in più di un'occasione interventi pianificati, riuscendo a ottenere comunque tutte le rate. Venendo alle questioni interne, nonostante i vari proclami, sono molte le ombre di questo esecutivo. Prima di tutto, la tragedia dell'Emilia Romagna, che sicuramente ha mostrato l'impreparazione del governo nel gestire una tale emergenza. Le passarelle di Giorgia e la nomina di Figliuolo sono state mosse più a favore di telecamera che effettivamente utili a garantire la ricostruzione. Costretta a governare un paese in balia dell'inflazione e della crisi economica, nulla di strutturale è stato fatto, preferendo andare avanti a colpi di bonus e card per la spesa, confermando quindi una coperta troppo corta per poter fare tutto, come dimostra anche la fine definitiva del reddito di cittadinanza. Al centro del dibattito, anche il tema lavoro, con il centro-destra che si è opposto strenuamente alla fissazione del salario minimo. Infine la questione femminicidio, che ha messo tutti d'accordo, governo e opposizione, e entrambi schiacciati dal clamore mediatico organizzato a regola d'arte per confermare lo scontro fra i generi e la necessità di maggior sicurezza e prevenzione. Cosa ci aspetta nel 2024? Sicuramente le riforme, una su tutte è quella del premierato, che potrebbe modificare definitivamente l'assetto costituzionale italiano. Ma nell'elenco c'è anche quella del fisco, della giustizia e infine quella dell'autonomia differenziata. Tutti i temi che approfondiremo nel nostro primo piano sulla politica. Ben ritrovati! E ovviamente un bel ritrovati anche ai miei ospiti. Buon anno nuovo all'Avvocato Umberto Del Noce. Buongiorno. Buon anno. E al professor Luca Lanzalaco. Buongiorno professore e buon anno anche a lei. Buongiorno e buon anno a tutti. È un piacere ritrovarvi qui. Siamo pronti a commentare nuovamente quanto accade tutti i giorni nel nostro paese e non solo. Come diceva all'inizio di puntata, oggi vogliamo dedicare la nostra analisi, il nostro approfondimento a due discorsi. Due discorsi molto significativi, due discorsi che hanno anche una loro cerimonialità, visto le figure che questi discorsi li hanno pronunciati. E partiamo anche per quello che è l'ordine cronologico dal discorso che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, come ogni anno, ha fatto alla vigilia di Capodanno. Insomma, il 31 dicembre, prima dello scoccare della mezzanotte. Un discorso che ha toccato vari temi, un discorso che non è sceso nel dettaglio delle questioni, ma che ha posto il focus su alcune di quelle che sono poi le vicende che hanno caratterizzato il nostro anno e di cui abbiamo parlato anche nel servizio. Quindi sicuramente la guerra, sicuramente la questione del femminicidio, quindi la questione della violenza di genere, un discorso rivolto soprattutto ai giovani, come spesso ha fatto il Presidente della Repubblica. Professore, parto da lei. Che idea si è fatto del discorso? Cosa possiamo carpire dal detto e dal non detto? Dunque, sì, il discorso è stato un discorso breve, 17 minuti, se non sbaglio, tenuto in uno scenario, non so chi l'ha visto, l'avrà notato, uno scenario abbastanza squallido, cioè un corridoio, in piedi, molto scarno, solo le tre bandiere d'ordinanza, diciamo, un Presidente che sembrava quasi a disagio, questo gesto che ha ripetuto incessantemente di toccarsi la vera, che non sappiamo se è segno di messaggio, diciamo, di adesione alla famiglia tradizionale, o invece un gesto di imbarazzo. Ecco, quindi un Presidente che si sentiva quasi a disagio dove stava. Questa almeno è la sensazione che io ho avuto. Un discorso, punto due, è un discorso che è stato interpretato da parecchi osservatori come l'esatto opposto del scenario, come si è di moda dire adesso, della narrazione che invece ha presentato il governo. Quindi uno scenario fatto di lesione sistematica dei diritti dei cittadini, uno scenario di guerra e quindi un discorso non rassicurante, non era un discorso che voleva rassicurare, era un discorso che casomai voleva allarmare e ha dato, non era un allarme fino a se stesso, ma dava anche la chiave di la soluzione e cioè un richiamo ai valori della Costituzione. Bene, entriamo ora nel merito. Io vedrei tre punti. Primo, che cosa ha detto e mi è piaciuto. Non entro nel merito, non sto a descrivere tutto quello che ha detto, anche se, ripeto, un discorso breve, 17 minuti, 11 pagine scritte non fitte, però focalizzare l'attenzione su alcuni elementi essenziali. La prima cosa che mi è piaciuta, che lui ha detto, è quando ha parlato della guerra, dello scenario internazionale della guerra, delle armi, quella che lui ha chiamato la cultura della pace, ha sottolineato anche il fatto di come alla guerra, alle armi, si associano anche i cospicui guadagni. quindi teniamo conto che questa affermazione, che di per sé potrebbe essere, non dico banale, ma puramente descrittiva, in effetti ha un forte valore polemico, perché primo, al governo c'è come ministro della difesa l'ex lobbista dei produttori di armi, primo, secondo, nella legge, nel nuovo patto di stabilità, le spese per la difesa sono scorporate nel calcolo del deficit. Terzo, se vogliamo aggiungere anche questo, a mo' di ciliegina sulla torta, è stato fatto il tentativo di estendere il porto d'armi per armi da caccia anche ai sedicenni. Quindi questo ricordare come dietro le armi ci siano cospicui guadagni è importante, ci sono interessi, nonostante invece la retorica ufficiale del mainstream, ricordiamo i richiami alla difesa che ha fatto anche recentemente Mario Draghi, ecco, nella retorica si parli di valori, di difesa di valori, di difesa della libertà, della democrazia. E il presidente Mattarella ha fatto presente che ci sono cospicui. guadagni. Punto due, cosa ha detto e mi è piaciuto, è un richiamo a quella che con Francesco De Gregori potremmo chiamare l'Italia che resiste. Ha parlato di chi a Cutro era presente a soccorrere gli immigrati che stavano per affogare, ha parlato dei ragazzi in Emilia-Romagna che andavano a spalare e il fango cantando Romagna mia, ha parlato delle manifestazioni di piazza con una grande partecipazione in risposta ai femminicidi, ha parlato di Casal di Principe, ecco, quindi ha indicato una strada, una strada che è una strada fatta di valori e di solidarietà che sono valori esattamente opposti a quelli della competizione e del merito che invece caratterizzano l'attuale governo. punto 2 cosa ha detto e non mi è piaciuto o meglio mi ha lasciato perplesso due cose ecco, una quando ha parlato della cultura della pace che ha detto non è buonismo ha aggiunto anche una cosa ha detto e non è neutralità ecco, allora io mi domando ma forse questo può dare risposta l'avvocato del noce se fra le competenze del capo dello Stato sia anche quello di definire la posizione dello Stato sullo scenare internazionale mi sembra che sia una posizione invece una prerogativa del governo del Parlamento ma a parte questo c'è un altro punto che escludere a priori l'opzione della neutralità vuol dire a mio parere intaccare quella cultura della pace di cui lui stava parlando quindi cultura della pace sì ma schierati e schierati anche da una parte ben precisa secondo punto che mi ha lasciato ecco qui più che contrariato perplesso è la confusione che il presidente ha fatto fra i sondaggi e i social ora a un certo punto dice la partecipazione non è proprio è andare a votare ecco sappiamo benissimo che non è solo quello ma ha detto non sono i sondaggi sui social allora sono due cose diverse primo i sondaggi l'abbiamo già detto sono diventati un elemento di disturbo nella vita politica italiana e penso non solo italiana c'è stata quella che qualcuno non mi ricordo chi però ha chiamato opportunamente l'esautorazione dell'elettore per cui sembra che il sondaggio abbia lo stesso valore delle elezioni quindi la critica al sondaggio a mio parere è appropriata ma questo nulla a che vedere con i social che sono invece mi spiace contraddire il presidente ma sono strumenti di partecipazione quindi ecco lì c'è stato a mio parere uno scivolone probabilmente il presidente data l'età e anche dati i suoi impegni non segue molto quanto accade sulla sulla rete punto conclusivo cosa non ha detto e mi è spiaciuto che non abbia detto primo non ha fatto non ha dato dovuto peso alle morti sul lavoro ha parlato del lavoro povero ma non ha parlato del lavoro che uccide ora secondo i dati a chiusura d'anno sembra che ci siano quasi stati nel 2023 quasi mille morti sul lavoro è una strage stiamo qua a strapparci i capelli per 65 100 108 non si sanno bene i dati però cosiddetti femminicidi ma mille morti sul lavoro cioè persone che escono la mattina per andare a lavorare e la sera non tornano a casa ecco di questo il presidente non ha parlato ultimo punto che mi sarebbe piaciuto sentir trattare è l'Europa l'Europa come l'Italia intende a collocarsi in questo momento dell'Europa l'Europa sta attraversando quella che tecnicamente viene chiamata una giuntura critica cioè sappiamo benissimo l'ha detto anche Giorgio Meloni ad Atreio che si confrontano due disegni istituzionali c'è chi per esempio mi viene in mente un nome a caso Mario Draghi preme per gli Stati Uniti d'Europa c'è chi invece preme quindi per un disegno federale e chi invece preme per un disegno di tipo confederale dove gli Stati mantengano la propria sovranità ora ecco entrare nel merito forse non era compito del presidente ma un accenno sull'Europa su quello che sta succedendo proprio in Europa sarebbe stato a mio parere opportuno ecco professore colgo al volo l'astis che ha fatto perché concordo con lei sul fatto che il presidente non abbia toccato questo tema invece era importante farlo anche perché poi il presidente della Repubblica è garante del patto sociale quindi anche il rapporto che gli italiani hanno con l'Europa che hanno avuto nel corso di questi anni è stato abbastanza controverso soprattutto a causa poi delle disfunzioni che l'Europa ha causato allo stile di vita italiano e a proposito proprio dell'Europa sappiamo che come dicevo anche all'inizio Mattarella quando ha promulgato poi la legge sulla concorrenza e sul mercato ha inviato questa lettera al Giorgia Meloni ai presidenti di Camera e Senato proprio su una questione che riguarda i rapporti tra l'Italia e l'Europa cioè la questione delle concessioni sia balneari che per quanto riguarda il commercio in strada quindi insomma è chiaro che il tema del rapporto tra l'Italia e l'Europa l'abbiamo visto anche col MES col patto di stabilità è stato fondamentale a fine duemilaventitré lo sarà sicuramente nel duemilaventiquattro a questo punto Umberto passo la palla anche a te per commentare un po' quello che è stato il discorso di Mattarella cosa hai notato anche tu quali sono le tue analisi e soprattutto poi perché secondo te a questo punto ha preferito non parlare dell'Europa forse il clima non è dei migliori sì sicuramente in questo momento il tema dell'Europa è un tema che è molto divisivo in generale ecco io quello che ho notato ecco il professore faceva prima riferimento al disagio in un certo senso che la postura il linguaggio non verbale del presidente emanava e in effetti secondo me questo 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 disagio perlomeno per quanto riguarda la mia personal opinione traspariva anche un po' nel discorso che ho trovato abbastanza piatto in un certo senso cioè voglio dire molto politicamente corretto quasi da prete in un certo senso cioè quei discorsi che in qualche modo vogliono un po' includere tutti no toccando tutti i temi eh su cui il mainstream è più o meno d'accordo mh evitando evitando diciamo opinioni così così divisive e stando un po' sul sul sulla superficialità delle cose mi ha inquietato anche come come ha notato il professore questo diciamo esclusione della neutralità mh perché in un momento in un momento così caldo no 2024 è iniziato incendiario e siamo in un momento in cui è molto concreta un'escalation del conflitto in Medio Oriente e anche e anche in Ucraina perché comunque si va a novembre 2024 per esempio alle elezioni presidenziali americane sicuramente il partito democratico non vorrà arrivare con una diciamo sconfitta militare contro la Russia in Ucraina e quindi è prevedibile che aumentino le pressioni per una risoluzione o perlomeno per vendere una sorta di vittoria in Ucraina in questo senso per esempio si sono intensificati anche gli attacchi terroristici e gli attacchi mirati e credo che da una parte gli Stati Uniti spingeranno per un escalation per cercare di non arrivare sconfitti appunto l'appuntamento al temuto appuntamento elettorale e contemporaneamente anche in Medio Oriente la situazione sta sfuggendo da ogni controllo allora in questo momento nominare la cultura della pace è fondamentale ma poi escludere la neutralità significa in qualche modo escludere la cultura della pace perché noi siamo stufi di un sistema politico che dichiara che dichiari che la pace si fa con le armi e che la pace si fa mandando armi e che i valori si difendono militarmente siamo stufi della retorica dell'esportazione della democrazia del nostro giardino che deve essere difesa dalla giungla che la minaccia da fuori siamo stufi la cultura della pace richiede una certa radicalità e questa radicalità sta anche nel dichiarare una certa neutralità e non aderire supinamente a politiche belliciste che vengono mascherate da parole vuote ecco queste parole vuote a me hanno hanno stufato allora la nostra costituzione è radicale perché l'Italia ripuglia la guerra come strumento di risoluzione delle delle contese internazionali ripuglia la guerra non ammette né se né ma ripuglia la guerra appunto quindi se ripugliamo la guerra dovevo anche rifiutare di mandare armi che quella guerra la propagano e la intensificano e quindi diciamo su questo punto questa ambiguità la trovo inaccettabile ecco e quindi ecco diciamo io continuo a vedere nei discorsi dei nostri politici questa ambiguità dovuta a discorsi fatti di belle parole però la mancanza poi del coraggio di di incarnare questi questi valori anche andando contro quelli che sono ehm i diktat delle strutture di potere dominanti sappiamo che il sistema politico di fatto è comunque riflette la struttura di potere e la riflette in un modo che permette alla struttura di potere di ehm portare avanti i propri interessi però tutto questo sta diventando sempre più evidente e sempre più inaccettabile ecco l'aspetto positivo è che secondo me ecco il 2023 e anche l'inizio del 2024 stanno portando a galla ehm questo cioè la falsità del sistema e di fronte a questa falsità che diventa sempre più evidente ehm allora contemporaneamente i discorsi sembrano sempre maggiormente delle scatole vuote che non hanno più in realtà una così una relazione reale con la realtà che vorrebbero eh descrivere ecco questa è un po' l'impressione che a me è emessa del discorso di di Mattarella sì concordo ecco perché pure prima all'inizio dicevo sono dei discorsi che vivono di una certa cerimonialità di una certa formalità ma che poi soprattutto credo quello del Presidente della Repubblica mh abbia poca concretezza come sottolineavi tu e poi sono anche d'accordo con con l'analisi sulla questione di come veramente si dovrebbe realizzare la pace e con cui si dovrebbe perseguirla quindi la neutralità è fondamentale e il fatto che poi il governo italiano si sia macchiato addirittura di astenersi dalle risoluzioni ONU che ci sono state nelle settimane scorse insomma così come molti paesi dell'Occidente dice molto su questa retorica della pace che in realtà poi non ha nessuna nessuna concretezza forse maggiore concretezza però ce l'ha il discorso di Giorgia Meloni comunque parliamo di due rulli diverse due cariche diverse la Presidente del Consiglio la Presidente del Governo comunque ha fatto un discorso più che discorso diciamo una conferenza stampa durata oltre tre ore dove ha risposto alle tantissime domande dei giornalisti e ha sottolineato un po' alcuni di quelli che sono stati i meriti del Governo in quest'anno un Governo che comunque poi sappiamo essere partito quattordici mesi fa quindi diciamo un anno e un paio e un paio di mesi una Giorgia Meloni che comunque quindi ha battuto colpo su colpo ha ripattuto colpo su colpo rispetto alle domande dei giornalisti e non ha risparmiato critiche anche nei confronti poi delle opposizioni su alcuni temi professore cosa ci dice del discorso di Giorgia Meloni ho trovato il titolo dell'articolo uscito oggi su domani nell'articolo di Pierignazzi Pierignazzi per chi non lo sapesse è un politologo politologo di origini radicali oggi area PD ma soprattutto è un politologo che ha avuto il merito di occuparsi per primo del polo escluso cioè della destra scrivendo un gran bel libro molti anni fa che adesso è stato ripubblicato ecco Pierignazzi appena finito di leggere l'articolo intitola il suo commento al discorso di Giorgia Meloni in questo modo lo cito perché sintetizza l'impressione che penso molti abbiamo ricavato il titolo è pasticcione e rancorosa ma Giorgia Meloni è ancora efficace ecco quindi se da un lato le risposte a domande perché ricordiamo era una conferenza stampa non era un comizio o un discorso come quello di Atreio qua erano domande puntuali e precise ecco su alcuni punti è stata imprecisa su altri Ahinoe ha detto cose palesemente false su altre se l'è cavata ma comunque è stata efficace nel suo stile comunicativo e perché è stata efficace dice Pierignazzi e io condivido pienamente quello che lui dice è stata efficace perché è stata tranchante è terminata il pubblico ha bisogno di risposte chiare decise sempre nel suo articolo Ignazzi che ripeto va letto attentamente perché è uno che ha iniziato a studiare l'MSI e poi è andato avanti a occuparsi a studiare il punto il polo escluso che adesso non è affatto più escluso ecco dice questo parla della Meloni ma da a mio parere una lezione importante all'opposizione questo aspetto cioè quello dell'essere tranchante decisa rocciosamente avvinta le proprie idee questo aspetto cito fra virgolette questo aspetto comunicativo è uno dei pregi della Premier politici come Enrico Letta o Eli Schlein inclini il ragionamento al dialogo più che la battuta fulminante hanno un'efficacia pubblica minore ecco lo stile comunicativo di Giorgia Meloni dovrebbe essere oggetto di riflessione piuttosto che di dileggio e talvolta anche di insulti perché Renzi è arrivato Renzi e Calenda sono arrivati al vero e proprio insulto nel commentare la conferenza stampa uno stile comunicativo quindi che viene apprezzato addirittura da studiosi che sono di orientamento politico opposto punto uno punto due la conferenza stampa di Giorgia Meloni conferma sostanzialmente l'impressione che tutti hanno avuto in questo anno e cioè che non ci sia il governo di Giorgia Meloni ma ci sia Giorgia Meloni e il suo governo perché lo stile comunicativo ma anche i contenuti di Giorgia Meloni alla conferenza stampa ma anche in altre situazioni sono stati ben diversi dal tono sguaiato talvolta provocatorio dalle gaff a volte dei suoi ministri a volte si ha quasi l'impressione che Giorgia Meloni debba tenere a bada questi discoli dei suoi ministri talvolta pure parenti pensiamo a Lollo Brigida che ogni volta che apre la bocca dice una scempiaggine ma pensiamo anche a Valditara pensiamo ad alcune dichiarazioni un po' forti fatte da piantedosi sugli immigrati o ai termini usati da piantedosi quando parlò di materiale residuo facendo riferimento a immigrati appunto sui barconi quindi esiste una spaccatura Meloni da un lato e il suo governo dall'altro una Meloni che se la sa cavare una schiera di ministri che invece hanno qualche problema sia nel contenuto che nel modo di comunicarlo a proposito di messaggi tranchant io penso che uno dei messaggi forti sia stato quello all'inizio della conferenza stampa quando Meloni ha dichiarato chiaramente che intenderà non alzare le tasse ma anzi casomai abbassarle e tagliare questo l'ha ripetuto più volte tagliare le spese sociali non ha specificato quali sarebbe stato interessante saperlo comunque ha dichiarato apertamente quindi qua non c'è da leggere fra le righe basta leggere quello che ascoltare quello che ha detto leggere quello che ha scritto è l'austerità l'austerità che noi avevamo già paventato altro punto importante è quello il commento che le ha fatto sulle politiche dell'immigrazione qua Meloni ha ammesso chiaramente di essere insoddisfatta di quello che il governo ha fatto qua vorrei fare una nota a piedi pagina è strano dunque sui giornali di oggi c'è sui quotidiani di oggi ci sono esercizi di fact checking per cui hanno preso giornalisti hanno preso le singole affermazioni di Giorgia Meloni dimostrando che diceva il falso che non rispondeva adeguatamente ma nessuno si è peritato ad andare a vedere il fatto che un presidente del consiglio ammette chiaramente di aver raggiunto risultati del tutto insoddisfacenti e questo va a suo merito rientri in questo stile comunicativo transciato altro punto qui invece ci metto davanti un segno meno è l'affermazione che la riforma costituzionale che il governo di centrodestra vorrebbe attuare non lede i principi le prerogative del capo i poteri e le prerogative del capo dello Stato questo è chiaramente falso anche perché lo stesso la seconda carica dello Stato cioè il senatore la russa qualche giorno fa aveva affermato esattamente il contrario ecco questa stiamo attenti perché quando si va a toccare la Costituzione ecco i trucchetti retorici lo stile comunicativo roccioso transciato determinato e sicuro forse non è del tutto adeguato ecco un'ultima cosa questa è stata notata da vari commentatori c'è stato un inquietante richiamo di nuovo alla ricattabilità non sono ricattabile pur di farmi ricattare io me ne vado a casa ora non è la prima volta che Giorgia Menoni parla di questo e ci sono stati anche diciamo inciampi non da non da poco ricordiamo dopo l'affare Gian Bruno che appunto se non sbaglio proprio Gian Bruno stesso o Ricci no qua c'è molto altro da ci sarebbe molto altro da dire oppure l'apparizione di Gian Bruno ad Atreio che è stata interpretata qualcuno l'ha definito un pizzino vagante ecco quindi questa insistenza vuol dire non sono ricattabili che vi ricordate emesse in polemica con Berlusconi ecco è inquietante è un chiamo inquietante che la Premier farebbe meglio a chiarire quanto prima perché evidentemente c'è qualcosa che non quadra certo è come se con il suo stile comunicativo quasi volesse apparire più forte di quello di sicura esatto sì 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 è comunque uno stile comunicativo che chiaramente una popolazione e comunque un elettorato come quella di Giorgia Meloni apprezza molto l'uomo comunque la donna forte che non le manda a dire è una caratteristica classica insomma dei leader sicuramente di destra più che dei leader di sinistra sì anche scusate un attimo anche perché sull'altro fronte abbiamo quindi quello dell'opposizione abbiamo o un Giuseppe Conte camaleontico che è no quindi poco credibile oppure un PD che di fronte ad ogni problema serio dice che è complesso cioè che ogni volta chi dice che è complesso vuol dire non sappiamo cosa diavolo fare a volte non abbiamo manco capito qual è il problema quindi essere semplicemente un attimo più determinati più chiari paga a prescindere dal contenuto ma è uno stile comunicativo che da un lato è vero può coprire vulnerabilità ma dall'altro è rassicurante cioè questa è una che sa quello che vuole gli altri non si capisce cosa diavolo vogliono scuso no no prego è il classico paternalismo un po' della politica odierna con un popolo che ascolta e spera sempre di trovare rassicurazioni nei nei propri leader nei propri rappresentanti Umberto sì insomma penso anche tu sia d'accordo sul fatto che esiste una Giorgia Meloni ed un governo e anzi spesso questo governo ha tentato anche di mettere le bassoni fra le ruote all'andamento stabile dei lavori dell'esecutivo tra gli ultimi sono appunto la questione di Capodanno con lo sparo partito durante la festa del sottosegretario del Mastro poi anche l'inchiesta sugli appalti Anas insomma sono delle piccole inclinature in una serenità che invece Giorgia Meloni cerca in ogni modo di raggiungere e dimostrare come stiamo dicendo e poi tra i punti che mi sono insomma saltati all'occhio c'è anche questa questione di privatizzare maggiormente si parlava della privatizzazione forse di ferrovie o delle poste italiane ecco quindi in tema di privatizzazione poi noi abbiamo sempre una vena una vena un po' più scoperta e quali sono invece le tue valutazioni sul discorso di una della Giorgia Meloni sulla conferenza di una della Giorgia Meloni ah sì ma secondo me diciamo la differenza di posizione fra il capo del governo e i femministri palpabile ma è sempre un po' così secondo me dipende un po' dalla dinamica poi proprio della formazione del governo cioè vi sono ministri che vengono chiamati a far parte di una squadra e probabilmente sono armati da qualche obiettivo anche di natura ideologica o comunque di che devono rispondere al loro elettorato e poi vi è il rappresentante del governo che ha comunque il compito di tenere un po' insieme la squadra e garantire la sopravvivenza alla propria squadra e quindi a parte le questioni diciamo di costume come insomma le sparatorie diciamo di Capodanno ma in generale il Capodanno deve essere armato di maggiore pragmatismo se vuole sopravvivere come governo ovviamente deve da una parte il proprio elettorato così da compiacere e dall'altra parte un sistema di potere da non irritare troppo e in questo ben visto che la Meloni in questo 2023 ha avuto dei problemi abbastanza imbarazzanti dalla diciamo dal negare di aver mai detto di essere per l'uscita dall'Europa a in generale incassare una sconfitta come comunque in un certo senso ammesso sul patto di stabilità e ecco a me ha un po' inquietato per esempio invece riferimento al MES perché diciamo dopo aver così in qualche modo guidato la bocciatura del MES però ha detto che insomma ha fatto un riferimento che questa bocciatura potrebbe essere uno sprone per rivederlo e migliorarlo ecco questo mi ha inquietato perché in qualche modo sembra non mettere un punto a capo a questa questione e soprattutto diciamo non pone la vera questione perché secondo me non è tanto il MES che deve essere riformato ma la struttura della Banca Centrale Europea e dell'Europa in generale ma più particolarmente la Banca Centrale Europea che è una banca centrale che non fa la banca centrale e quindi non facendo da prestatrice di ultima istanza crea agli stati il problema di doversi finanziare sui mercati e quindi se i mercati insomma non credono nello Stato c'è il problema di finanziamento dello Stato e qui subentra il MES però il problema è alla base quindi non è tanto secondo me il MES che deve essere riformato ma le funzioni della Banca Centrale Europea detto questo ecco fondamentalmente credo che 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 sì tutta la fatica di questo di questo anno ecco della posizione che ha assunto Meloni nell'essere la leader di un partito di governo ecco è emerso un po' in questo discorso ecco anche trovo inquietante di nuovo il discorso per esempio sul premierato proprio l'indomani in cui per esempio un presidente di destra in Argentina chiede i piedi poteri a Parlamento e diciamo annuncia l'uscita la revoca della richiesta di adesione BRICS ecco quello che voglio dire è che mi pare che si vada in un periodo storico che essendo molto caldo certe forme di potere preferiscono ricorrere a limitazioni della democrazia per vedere tutelati certi interessi piuttosto che lasciare certe decisioni al dibattito democratico e quindi in questo momento che un presidente di destra diciamo chieda comunque maggiori poteri al governo con questa riforma del premierato e ai premi di maggioranza che includono e che la difenda anche mentendo sulle limitazioni del ruolo del capo dello Stato ecco è un altro di quegli elementi preoccupanti che secondo me dovremmo continuare a monitorare nel 2024 perché è un 2024 che si apre comunque appunto come abbiamo detto in maniera diciamo incendiaria e in cui secondo me i tentativi di limitare gli spazi democratici non mancheranno ecco assolutamente assolutamente ovviamente noi sappiamo che come dicevi tu il 2024 è partito in maniera veramente non non bella quello che sta succedendo in Medio Oriente comunque l'escalation che si sta avendo in questi giorni necessita comunque qui in Europa a causa comunque delle alleanze che in qualche modo dobbiamo rispettare e subire in base all'opinione che ognuno di noi ha rispetto a queste alleanze necessita di uomini forti Giorgia Meloni si è sempre confermata almeno sul piano internazionale in grado di assecondare quelle che sono le richieste della Nato quindi è chiaro che uomini o comunque donne forti in momenti difficili sono quelli che il potere necessita per portare avanti uno status uno status quo proprio come come dicevi tu e ovviamente poi noi ci troveremo anche a dover analizzare tutte le riforme come diceva il servizio che ci aspetteranno nel duemilaventiquattro proprio a partire da quella del premierato e signori grazie mille di questa prima puntata del duemilaventiquattro direi che è stata una bella puntata siamo partiti così analizzando quello che dicono gli altri poi ritorneremo a parlare anche noi su quello che è più importante sottolineare un saluto all'avvocato e un saluto al professor Luca Nanzalaco auguri di nuovo auguri grazie a tutti grazie a tutti